Molisi a calci in collaborazione con Design, stile e comfort nel nuovo showroom di D'Amico Arreda sulla superstrada Trignina Isernia San Salvo, uscita a Civitanova del Sanni Consul Brokers, piazza della Vittoria 14A a Campobasso Broker di assicurazione, info 0874 43 86 35 Molisi a calci Buonasera, ben ritrovati con una nuova puntata di Molisi a calci dedicata alla Serie D nella prima parte, Serie D che ha emesso tutti i verdetti o almeno aspettiamo la fine dei play-out per la completezza in merito e comunque faremo anche un riepilogo dei nove gironi, quindi delle nove vincitrici dei gironi di Serie D insieme alle retrocess e poi parleremo anche di una squadra in particolare, la Pianese, che ha vinto praticamente il girone E di Serie D e si appresta a scontrarsi con il Campobasso in questo triangolare della cosiddetta Pool Scudetto una competizione accessoria, una competizione secondaria organizzata dalla LND e che durerà all'incirca un mese per chi andrà fino all'ultimo atto parleremo anche dell'ultima giornata di eccellenza nella seconda parte due blocchi di Moviola a cura del direttore Antonio Di Lallo e il top e flop di Alessia Manocchio che è qui al nostro fianco come ogni lunedì sera Buonasera Alessia, ben ritrovata Buonasera Gianni, è un piacere ritrovarti buonasera ai nostri ospiti e a voi che come ogni lunedì ci seguite da casa e ben ritrovati al nostro salotto sportivo di Molise a calci la prima puntata del mese di maggio nonché la puntata numero 408 che vi ricordo potrete seguire sul canale 11 sia in Abruzzo che in Molise ma anche sulle nostre piattaforme social di Youtube e di Facebook anche questa sera un ringraziamento speciale alla boutique di Monique che si trova qui in via Vittoria Veneto per il meraviglioso abito che sto indossando iniziamo subito dunque dopo poco più di 24 ore dalla fine dei campionati regionali di serie di eccellenze di promozioni ormai i riflettori sono già puntati verso i play-off e i play-out che inizieranno proprio a partire dal prossimo weekend in merito all'eccellenza sarà una vera e propria lotta 5 per non retrocedere e parliamo insomma dello spareggio retrocessione previsto tra l'Olimpia agnonese ed il Termoli in cui la vincitrice scontrerà fra due settimane il Boiano mentre la squadra che ne uscirà sconfitta retrocederà altro spareggio diretto quello tra la Cliternina ed il Campomarino ma parleremo di questo ed anche in promozione dove la situazione è analoga in vetta ci sono ben tre squadre in lotta per la promozione in eccellenza ma saluto subito gli ospiti di questa sera un saluto Emanuele Vassalli il preparatore atletico della Pianese buonasera Emanuele buonasera Alessia buonasera Gianni e buonasera a tutti i telespettatori grazie per essere tornato a trovarci di nuovo qui in studio Pianese che come abbiamo anticipato finalmente con una giornata d'anticipo è promossa in Serie C una bella emozione assolutamente sì un'emozione inaspettata ma che comunque ci stiamo godendo da una settimana però adesso è già tempo di pensare un po' al futuro a quello che ci aspetta già dai prossimi giorni ecco rimanere insomma con i piedi per terra e saluto anche Luigi Santaniero il portiere del Baranello buonasera Gianni buonasera Alessia grazie per l'invito grazie a te per essere qui questa sera Baranello con pagine di promozione che proprio sabato prossimo disputerà i playoff contro il Montenero allora buonasera a entrambi i nostri ospiti disputerà il Baranello Montenero-Baranello uno spareggio che vale il secondo posto la squadra vincitrice andrà in eccellenza lo spareggio sarà tra Baranello e Montenero la squadra perdente andrà a fare il playoff l'unico previsto in promozione contro la Esernia è giusto Luigi? sì sì giusto sabato andremo a giocare questo spareggio molto importante per noi nel caso comunque andrà male avremo ancora la possibilità di giocare i playoff in casa contro la Esernia allora si giocherà sabato alle 17 si sta cercando un campo in queste ore da quello che sappiamo si è sondata la disponibilità del Civitelle di Agnone però sembra che si vada verso un'altra direzione pare non sia disponibile quindi attendiamo delle decisioni in merito per quanto riguarda Montenero-Baranello che vale un posto il secondo posto in eccellenza dopo la vittoria del campionato da parte del Vairano complimenti allo staff della Pianese che ha vinto il girone e di quarta serie guidata da Fabio Prosperi da te Emanuele Vassalli come preparatore atletico molisano di Rotello da Umberto Di Giacomo molisano di Isernia e da Leonardo Brenci che molisano non è ma ha giocato nel campo basso di Giacomo viceallenatore di Giacomo viceallenatore giusto e Brenci collaboratore tecnico allora dovete sapere che Emanuele Vassalli e Fabio Prosperi erano i tecnici che hanno fatto il ritiro del Campobasso credo in provincia di Avellino l'estate dei ricorsi della Lega Pro e quindi anche loro legittimamente ambivano ad essere in Lega Pro a fare uno staff da Lega Pro cosa che poi non è avvenuta nella 2022-23 e quindi un riscatto anche personale questo con la guida della Pianese che il fato ha voluto che fosse una domenica di rivincita un po' per tutti per la città di Campobasso e per noi, per me il mister che due anni fa eravamo entusiasti di intraprendere questa nuova avventura e Lega Pro con il Campobasso però poi sappiamo tutti com'è andata a finire dall'eccellenza questa società è ripartita dall'eccellenza ha vinto due campionati consecutivi il tuo giudizio a distanza io penso che sia stato sicuramente un giudizio positivo in due anni tornare subito nei professionisti penso che sia sia a merito soprattutto della società dello staff dei giocatori ma sicuramente di un'ottima programmazione la Pianese rappresenta un comune di 5.000 abitanti circa in provincia di Firenze di Siena Pian Castagnaio che già aveva fatto la Lega Pro poi il retrocesso adesso è tornato in Lega Pro e potrebbe scontrarsi con il Campobasso nella famosa pool Scudetto si parla proprio di una trasferta domenica a Pian Castagnaio da parte del Campobasso sarà una competizione come dire accessoria per certi versi forse anche superflua come l'ha giudicata sì sicuramente diciamo che dopo aver terminato al vertice questo campionato diciamo che tutte le energie sono quasi esaurite tuttavia comunque è bello scontrarsi con le vincitrici dei gironi e ti dico la sincera verità Gianni sono anche curioso di vedere sia il Campobasso e sia il Carpi in questo triangolare ci saranno Campobasso Carpi e Pianese del cui presente Emanuele Vassalli parleremo ancora di Serie D perché faremo il riepilogo delle squadre che hanno vinto i nove gironi ma prima vediamo un contributo dal Molinari che era affollatissimo 7500 spettatori chi abbiamo ecco un estratto di un'intervista realizzata durante a tutto campo Alessia sì Gianni andiamo ad ascoltare Domenico Progna il responsabile del settore giovanile del Campobasso ascoltiamolo sì abbiamo il responsabile del settore giovanile del Campobasso che ringrazio Domenico Progna c'è stato il vostro momento a fine primo tempo la passerella di tutti i giocatori e le squadre i tecnici insomma è un progetto questo che sta prendendo corpo con i risultati da due anni a questa parte sì siamo partiti l'anno scorso con pochissimi ragazzi anzi con quasi nessuno la proprietà ha creduto nel sottoscritto e nello staff del settore giovanile che nell'arco del campionato ha dato una mano anche al mister Pergolizzi per cui siamo contenti di aver tirato su una Juniors abbastanza competitiva quest'anno pur partecipando in un girone campano laziale molisano con un po' poche difficoltà dal punto di vista ambientale però siamo contenti detto questo insieme alla Juveness abbiamo avuto un rapporto di collaborazione siamo riusciti anche a allestire due squadre l'Under 17 e l'Under 15 che proprio stamattina ieri pomeriggio hanno vinto i playoff per fare poi la finale con con le loro pare categorie devo anche dire che dall'avvento di Pergolizzi si si parlò anche di un di un nuovo staff per la Juniors cosa che poi non è avvenuta nel senso che Piccirilli e Gammieri hanno lavorato questo probabilmente non è stato detto a sufficienza lo diciamo ora sia per la prima squadra con Pergolizzi nei ruoli di vice allenatore e preparatore atletico che con la Juniors questo lo vogliamo rimarcare sì è stato un impegno non indifferente da parte di Giovanni Piccirilli Stefano Gammieri e lo stesso Gian Guido De Biase perché si sono dovuti dividere su due campi dei allenamenti durante la settimana il sabato e la domenica nelle partite ufficiali io avevo avvisato i ragazzi che poteva essere un campionato lungo e logoro per loro soprattutto essere presenti in tutte e due le situazioni devo dire che il mister Pergolizzi è stato molto bravo a metterli a loro agio nella loro miglior condizione per cui siamo contenti di aver contribuito anche in minima parte con uno staff nella prima squadra e lo stesso modo insomma siamo contenti per il risultato che abbiamo ottenuto con la Juniors in che cosa in che cosa secondo te si è distinta o è stato bravo Pergolizzi che ha iniziato il 15 ottobre in casa contro il Senigallia poi ha fatto praticamente 63 punti quindi una mole di punti in 27 giornate qual è stata la caratteristica che lo ha distinto ai tuoi occhi ma il mister a mio avviso è molto pratico diciamo che è un allenatore vecchio stampo nel senso che non è uno che va moltissimo magari appresso ai numeri però è una persona molto pratica nel senso che ha saputo incidere sul gruppo ha saputo far di necessità virtù con tutti quei giocatori che gli hanno messo a disposizione quelli che già c'erano prima di lui è stato molto bravo a rendere questo gruppo molto unito e granitico una mia considerazione personale e nessuno me ne voglia molto probabilmente il Campobasso non era la squadra migliore del girone ma sicuramente è stata la più concreta la più tosta ed è quella che si è messa più nella condizione per vincere il campionato diciamo che la differenza fra le due vittorie quella del 2020-2021 con Cudini e questa del 23-24 con Pergolizzi probabilmente la competizione di città come l'Aquila e San Benedetto del Trotto l'ha resa più affascinata e più bella alla fine? Sì perché quegli anni là l'anno prima che il campionato era stato cristallizzato per il Covid molto probabilmente avrebbe vinto il campionato il Campobasso ma l'anno dopo il Campobasso è partita con il favore dei pronostici per cui è stato più facile e forse in quell'anno lì c'era solo il notaresco invece quest'anno come hai detto tu c'erano 4-5 pretendenti all'inizio che si sono subito rivelate tali Aquila San Benedettese lo stesso Avezzano e Roma City diciamo che il Campobasso poteva essere l'outsider di turno che l'ha fatto nel modo migliore bene io ti ringrazio l'ultima cosa poi ti congedo e ti ringrazio Domenico Pronni responsabile del settore giovanile del Campobasso in vista della Lega Pro questo progetto sembra avere a partire dal pubblico delle basi buone per continuare su questa scia insomma c'è un entusiasmo che è stato crescente nelle ultime settimane dei numeri delle immagini da record basti per esempio vedere oggi 7500 o la festa al momento del ritorno della squadra da Chieti a mio avviso la società è stata molto brava a creare questo entusiasmo cosa che molto probabilmente l'altra vecchia società non aveva fatto aveva preso molto distanza dalla città e dal pubblico invece la dirigenza ha voluto di nuovo ritornare come ai fasti degli anni della Serie B cercando di coinvolgere quanto più è possibile i paesi tutti quelli che sono nel Molise che hanno sempre di fatto campo basso sono stati molto bravi e la gente in questo momento l'ha ripagato mi auguro che l'anno prossimo in Lega Pro possiamo avere lo stesso entusiasmo gli stessi risultati e portare il Molise nelle condizioni dove siamo più favorevili e quello che ci compete di più un commento da parte di Luigi Santaniello su questo perché hai fatto parte anche tu per gli ultimi tre mesi dello staff dei preparatori dei portieri del Campobasso insieme al professor Marco Cervino sulle parole di Pronia sì allora Domenico una grandissima persona una grandissima persona di calcio lui ne sa di calcio una persona esperta che dice sempre le cose come stanno non dice una parola sbagliata ha ragione sullo staff tecnico su mister Giovanni mister Gian Guido e il prof Stefano uno staff preparatissimo che si è saputo si è saputo ritenere all'altezza di una prima squadra molto professionali su tutti gli ambiti e soprattutto danno un grande valore ragazzi vediamo dovremmo avere in collegamento dall'Albania il portiere ex Pineto Giulianova quest'anno anche una parentesi all'FC Matese Clevis Sciba vediamo se riusciamo a collegarci buonasera Clevis buonasera a te buonasera a tutti buonasera a voi buonasera Gianni dove ti trovi in questo momento esattamente in questo momento sono in vacanza nel paese mio in Albania la città non ce la vuoi dire città natale Tirana Tirana sei proprio a Tirana allora abbiamo detto una parentesi non fortunata questa in porta all'FC Matese ultimi in classifica si è provato a lottare fino alla fine ma insomma non è andata non è andata bene no assolutamente poi parlo per esterianza mia io non mi sono trovato tanto bene poi ho fatto anche un posto dove dicevo che non ci sono mancate diciamo le basi per cercare di salvare il salvabile invece non è stato così e sono il primo rammaticato e mi dispiace Per quanto riguarda la vetta dobbiamo dire che è stata una veramente una lotta molto bella tra Campobasso San Benedettese e l'Aquila ma va anche detto insomma che il Campobasso poi si è tenuto stretto questo primato praticamente da metà dicembre fino a ieri assolutamente io ho sempre detto anche da inizio anno che vedevo il Campobasso rispetto alle altre più più squadra più gruppo io penso che in Serie D non contano tanti nomi ma conta andare doppi gli altri io quando ho visto il Campobasso contro noi sono rimasto parecchio impressionato sentiamo tantissimi pareri Clevis abbiamo sentito anche quello di Domenico Pronia responsabile del settore giovanile del Campobasso qualcuno dice che l'Aquila poteva avere qualcosa in più del Campobasso qual è invece la tua opinione in merito? come Rosa credo proprio di sì secondo me l'Aquila era la più forte a nomi solo che il Campobasso ha sbagliato pochissime partite e poi è quello che dopo ti fa vincere il campionato sono stati bravi a fare punti quando gli altri rallentavano e poi si è trovato da sola a vincere questo campionato io l'ho vissuto sulla mia pelle ho rincorso il Campobasso nella stagione 2021 è stato veramente tosta e poi dopo quando ha quei tipi di giocatori è più facile magari dopo vincere i campionati anche quella tiposeria perché alla fine è una piazza che vive di calcio respira calcio quindi non merita questi palcoscenici assolutamente insieme a San Mettese l'Aquila eccetera eccetera Sì tu eri il portiere del notaresco che contese la Lega Pro al Campobasso nella stagione 2021 tra le sorprese migliori del Giron F secondo te ci può essere l'Atletico Ascoli? Sì assolutamente l'Atletico Ascoli io pensavo pensavo molto meglio il Timoli però quella che a me la squadra che mi impressiona di più nel Giron F ormai da due anni è il Senigallia per il tipo di gioco che esprime e la squadra che a perennio è quella che gioca meglio però sì ai punti c'era che il Pascoli che possiamo dire ha fatto una rivelazione di questo campionato e un'ultima cosa tu conosci bene la piazza di San Benedetto del Tronto la San Benedettese che poi ha chiuso quarta è stata una delusione a tuo avviso anche con i tanti cambi di panchina credo proprio di sì perché poi quando indossi quella maglia io so cosa si prova perché vivo lì non puoi non puoi giocare per arrivare secondo credo che dovranno fare qualcosa in più dobbiamo magari dare il filo da torcere al campo basso fino all'ultima giornata che non è detto che devi vincere con 20 bui di vantaggi però almeno giocarti la fine alla fine mi dispiace poi so cosa la piazza cosa richiede là e credo che credo che la società nuova sia una società importante seria e credo che l'anno prossimo combatterà di nuovo per vincere il campionato un grazie e buona serata a Clevis Shiba buona sera grazie mille buona serata ciao Clevis e allora quella della pianese è stata un'impresa anche perché ha dovuto vincere la concorrenza di piazze importanti come per esempio Livorno su tutte Gavorrano Livorno Gavorrano Grosseto quindi questo impreziosisce la vostra vittoria il vostro salto di categoria tra l'altro la prima volta anche del Caldiero in serie B chiedo scusa in serie C promosso dal girone B della serie D il Caldiero quindi è stata un'impresa anche per questo hai sentito le parole di Clevis Shiba cosa ci vuole in sé per vincere la serie D sei d'accordo? assolutamente non tanto i nomi ha detto assolutamente sì i nomi non bastano per me o per la mia esperienza per vincere la serie D su tutte è importante il lavoro il lavoro quotidiano il lavoro costante dello staff della squadra una società organizzata con basi solide e questo secondo me è l'ingrediente perlomeno è stato il nostro ingrediente ma penso sia l'ingrediente di ogni squadra che alla fine ottiene la vittoria del campionato Alessia possiamo vedere la moviola esatto già ne andiamo a rivivere insieme i momenti salenti di quest'ultima giornata di serie D lo facciamo come sempre attraverso la moviola curata dal direttore Antonio Di Lallo guardiamola insieme la moviola in collaborazione con carburanti e lubrificanti Paglione carburanti agricoli e per autotrazione lubrificanti mobile Kuwait oli motore oli idraulici oli per trasmissione cambi e differenziali ora nella nuova sede di Contrada Iontapede nella zona industriale Campobasso Ripalimosani carburanti e lubrificanti Paglione dal 1952 ci prendiamo cura del tuo motore da soli in pochi oppure in tanti insieme con un tipo speciale basta poco per far festa con Gelindo Gelindo e i suoi gelati un dolce brivido di felicità Gelindo la felicità ha il gusto delle cose semplici sane, genuine un brimido dolce di felicità con le immagini siamo a Selvapiana davanti a 7500 persone c'è questa prima opportunità grossa dobbiamo dire per il Campobasso andiamo piano con il nostro regista Donato Mignogna perché vedete Di Nardo lanciato da Di Filippo che si presenta solo davanti al portiere del Termoli Lombardo e qui c'è una specie di carambola un flipper perché respinge Lombardo poi la sfera va a finire va a finire proprio in faccia a Di Nardo vedete e quindi il pallone finisce fuori davvero una situazione strana ottima l'uscita da parte di Lombardo Di Nardo poi è sfortunato perché sul rimpallo vedete la sfera va a finire direttamente sul fondo 32esimo del secondo tempo sfortunato il Termoli perché da Hernandez la sfera vedete viene servita a Bursio davvero buono questo attaccante vedete il gran destro di Bursio con Esposito battuto la palla va a battere sul palo alla destra del portiere rosso-blu e poi l'azione sfuma ma davvero sfortunato il Termoli in questa circostanza Ariano sul campo del Roma City ha perso il Vasto Girardi 4 a 2 qui è davvero bravo il portiere di casa si tratta di Rimbu vedete l'azione avvolgente del Vasto Girardi con la palla che poi finisce a Cesaroni che porta il pallone sul destro praticamente calcia a colpo sicuro non si sa come faccia il portiere del Roma City Rimbu vedete con la mano allunga la mano e riesce a deviare anche in controtempo perciò la parata è stata più difficile allunga la mano riesce a deviare il pallone in calcio d'angolo tredicesimo del secondo tempo bella azione di Iacullo che attraversa il campo per circa 40 metri poi appena dentro l'area di rigore dei Laziali vedete sferra un gran sinistro che elude l'intervento del portiere avversario questo è il gol dell'1 a 3 per il Vasto Girardi che poi come abbiamo detto perderà la gara 4 a 2 quarantatresimo del secondo tempo a Piedimonte Matese ultima partita di serie D in casa per l'FC Matese c'è un tiro di Gatto giocatore del Chieti dal limite dell'area vedete è un tiro molto preciso non molto forte ma preciso che va a colpire il palo esterno alla sinistra del portiere dell'FC Matese e termina sul fondo colpisce un palo anche il Matese con Ricamato siamo esattamente al 45esimo del secondo tempo su calcio d'angolo c'è un colpo di testa di Ricamato vedete il giocatore con la maglia verde andiamo avanti qui con le immagini che sfiora il pallone la sfera batte a terra poi si impenna e colpisce in pieno la traversa della porta del Chieti sfortunato del Matese che avrebbe potuto chiudere la sua esperienza in serie D con una vittoria Allora Santaniello portiere del Baranello hai visto la parata di Rimbu bellissima del Roma City Sì una parata spettacolare sono molto reattivo e sono molto bravo veramente molto bravo classe 2004 Emanuele Vassalli abbiamo visto Campopasso Termoli un Termoli molto ben organizzato d'altronde 29 punti nel girone di ritorno non si fanno per caso insomma anche Termoli ha fatto una rivoluzione che ha portato ad una salvezza più che tranquilla 43 punti insomma un bottino di tutto rispetto No assolutamente il Termoli un po' come il Campobasso ha fatto un girone di ritorno molto molto positivo e merita questa salvezza Vasto Girardi e Matese giù Vasto Girardi per Vasto Girardi e Matese dispiace e a un certo punto si può anche resettare tutto e fare una nuova programmazione questo è l'unica cosa che si tu sei anche un ex del Vasto Girardi grazie alla regia per questa inquadratura collettiva Gianfrancesco Iagaruso e Angelo Pompei No assolutamente per le due Molisane Matese e Molisane acquisite è stato un brutto colpo soprattutto per il Vasto Girardi dove io ho passato due anni bellissimi due anni meravigliosi con Prosperi anche insieme a Mister Prosperi ma sono sicuro che presto ritornerà nel campionato che merita che è quello della Serie D facciamo una piccola pausa Alessia Gianni ci rivediamo fra qualche minuto tra poco di nuovo in studio per la seconda parte di Molise a calci allora stagione dura perché praticamente per il campo basso abbiamo sentito anche le parole di Domenico Pronia è stato locurante anche per lo staff della Juniores affrontare i viaggi con la Juniores il sabato e raggiungere proprio la prima squadra in trasferta molte volte erano trasferte Luigi Santaniello anche tu hai fatto parte dello staff della seconda squadra trasferta in Campania con la seconda squadra con la Juniores e poi il viaggio per dire a San Benedetto del Tronto sono stati sacrifici questi? Sì allora Gianni sono stati sacrifici ma ben pagati ma quando fai qualcosa con piacere non ti pesa nulla anzi c'hai sempre più voglia per farlo in tutto ciò hai trovato anche spazio per fare ecco cinque minuti liberi faccio il portiere del Baranello quindi c'è questa promozione evidentemente da portare a termine vincerà la migliore fra Baranello e Montenero voglia di riscatto anche perché avete perso entrambe le partite andate in ritorno contro il Montenero sì assolutamente che partita vi immaginate partendo dal presupposto che è stato un ottimo campionato quello del Baranello di Viglione sì noi abbiamo fammi di rivincita noi sappiamo che abbiamo perso con il Montenero sia all'andata o al ritorno potevamo avere qualche punto in più tra le due partite ma questo spareggio campionato finito campionato risettato è una partita a parte noi abbiamo fame di rivincita perché noi vogliamo conquistare questa eccellenza perché sappiamo che ce la meritiamo allora per quanto riguarda l'eccellenza l'Isernia è tornata in Serie D già da qualche tempo e fa bene al calcio molisano al movimento insomma questa metamorfosi che ci sarà il prossimo anno cioè Termoli e Isernia in Serie D purtroppo Vastogirardi e Matese un gradino più dietro ma il Campobasso in Serie C un commento da parte tua Emanuele io penso che sia una cosa meravigliosa per il Molise Molise sportivo avere le tre più grandi città due in Serie D e poi il Campobasso e il Lega Pro e diciamo ti è rimasto come dire indigesto questo boccone della Lega Pro persa sulle scrivanie del Consiglio di Stato quindi c'è sempre in cuor tuo il pensiero di ritornarci forse anche nel cuore di Prosperi cosa vi siete detti a riguardo se si può dire no sicuramente seguivamo con piacere il Girone il Girone F anche perché l'anno scorso non eravamo a San Benedetto quindi quando vedevamo il testa a testa tra Campobasso e San Benedettese comunque lo facciamo con piacere avendo vissuto entrambe le realtà tuttavia parlando personalmente per me che sono molisano Campobasso rappresenta sempre l'apice diciamo dello sport soprattutto a questi livelli ma sono sicuro che anche per il mister Prosperi nonostante l'occasione sfumata sia stato comunque piacevole vivere quei momenti allora sentiamo dei commenti riguardo alla vittoria dell'Isernia contro il Boiano Sì Gianni partiamo subito con l'eccellenza perché proseguono i festeggiamenti per l'Isernia ormai promossa in Serie D ieri è tornata a giocare all'Ancellotta mettendo K.O. anche il Boiano per 9 a 2 i bianco-azzurri sono passati in vantaggio con Ercolano Samb la tripletta di Cascio Bainotto Monteduro Valentino e Flores ricordiamo che il Boiano si giocherà la permanenza in eccellenza con la Lillo contro la vincente tra l'Agnonese e il Termoli 2016 ascoltiamo Damian Soria l'attaccante dell'Isernia e Gianluca Borreche il portiere del Boiano con il capitano della città di Senna Damian Soria uno dei protagonisti principali di questa cavalcata vincente tanti palloni giocati tanta qualità assist anche qualche gol e ce lo possiamo mettere il tutto culminato insomma con questa bellissima domenica di festa che ovviamente più che meritata a Lanciolotta penso di sì penso che meritatamente sofferto abbiamo sofferto io da due anni fa anche sofferto con tutti loro con tutti che stanno festeggiando qua quindi penso che meritatamente siamo un giusto campione sì anche perché avete conquistato gli stessi punti dalla passata stagione 82 che sono tantissimi non so in quante altre parti d'Italia non si vince con questi numeri le avete replicati quest'anno un epilogo abbastanza più dolce che ha sancito il ritorno in Serie D sì penso che se raccoglie i frutti pure dell'anno scorso che purtroppo ci stava il Campopazzo che non ha lasciato che noi possiamo festeggiare però è quelli dell'anno scorso perché sono tanti i giocatori che pure l'anno scorso c'erano quindi penso che si raccoglie i frutti dell'anno scorso e si festeggia quest'anno purtroppo pure i ragazzi dell'anno scorso lo meritano e questi anni anche sì so che dipende dalla società ma se ti dovessero chiedere di restare ovviamente la tua risposta qual è? per forza come no ho sofferto tanto come ti ho detto da due anni fa questo è il terzo anno mio ormai è come come una cassa per me mi trovo benissimo con la città con i tifosi con lo staff penso che la risposta è ovvia sì 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 sicuramente nelle ultime partite c'è stato un cambiamento di rotta una mentalità magari diversa con l'approccio del mister nuovo abbiamo fatto molto bene nelle ultime partite purtroppo oggi era una partita a sé è andata a finire così abbiamo probabilmente due settimane visto il risultato a Termoli per preparare lo spareggio e vedremo sì tra Termoli 2016 o l'impiagnonese se dovessi scegliere no non mi metto in difficoltà non ti so di noi qualsiasi delle due squadre affronteremo ci metteremo il massimo e soprattutto in casa nostra davanti alla nostra gente cercheremo di di portare a casa questa salvezza perché ce la meritiamo per i sacrifici per l'impegno attaccamento alla maglia che abbiamo tutti e speriamo che raggiungeremo la salvezza allora Boiano contro la vincente fra Termoli 2016 ed Agnonese che ironia del calendario si sono scontrate proprio ieri a chiusura del campionato tu chi vedi meglio fra Termoli 2016 e Agnonese chi ci arriva meglio chi secondo te vincerà Luigi Santaniello allora una partita come ho detto prima nel caso nostro una partita se vince chi ha più motivazione chi ha più voglia chi vuole salvarsi vince mi immagino entrambe ma tu se ti dovessi sbilanciare per quello che si è visto per me per l'ultima fase del campionato vedo meglio il Termoli di difesa grande il Termoli di difesa grande secondo te lo ti possiamo interpellare su questo anche se credo non seguissi molto dalla Toscana Emanuele Vassalli chi ci arriva meglio a questo spareggio vedendo gli ultimi risultati credo anch'io il Termoli il Termoli 2016 l'Agnone un po' in crisi di risultati proseguiamo Sesto Campano Fortore Sì Gianni con la doppietta di Gregorio il Sesto Campano ha chiuso nel migliore dei modi la stagione ritrovando la vittoria per 2-1 i danni della Polisportiva Fortore ascoltiamo Angelo Cecchino allenatore del Sesto Campano ed Edoardo Colucci il giocatore della Polisportiva Fortore ascoltiamoli diciamo che come ultima partita ci tenevamo a vingerla in casa abbiamo giocato meglio degli avversari alla fine abbiamo vinto 2-1 abbiamo avuto tante occasioni per sbloccarla pali, traverse però alla fine loro erano passati in vantaggio noi ci siamo fatti prendere dalla frenesia ho fatto girare un po' tutti quanti però poi la squadra al secondo tempo è scesa in campo con un piglio diverso che voleva vincere glielo ho detto ragazzi dobbiamo vincere e alla fine abbiamo meritato ampiamente la vittoria Sì si è chiuso un altro campionato con la tua guida tecnica con questa squadra il solito campionato così come accade da tantissimi anni lontano da casa in questa circostanza c'è stato anche insomma un buon piazzamento in Coppa Italia tra le prime otto Sì diciamo che la prima parte del campionato il giorno di andata siamo stati costantemente tra le prime 4-5 posizioni poi abbiamo avuto un periodo diciamo buio dove oggi dopo due mesi è la prima partita che vinciamo abbiamo avuto tanta sfortuna un po' diciamo non avevamo stimoli ho fatto girare un po' tutta quanta tutta quanta la squadra ho fatto fare un po' di esperienza a tutti quanti Sì sì onore a loro perché proprio davvero una bella squadra e noi siamo venuti qui per onorare il campionato siamo arrivati qua con la salvezza già in tasca e abbiamo cercato di far giocare chi durante il campionato è sceso meno in campo però è stata un'ottima partita l'abbiamo sbloccata su un calcio piazzato e poi sì ci hanno messo un po' alle corde il secondo tempo e abbiamo onorato al meglio l'ultima giornata di campionato Sì una salvezza che credo per voi va ad assumere tanto valore anche per il lavoro che si è svolto in precedenza con la vittoria a pieno merito del campionato di promozione vi aspettavate un traguardo del genere insomma così come è arrivato? Sì sì ce lo aspettavamo veniamo da un da tre anni infatti bene il progetto era proprio questo siamo saliti di due categorie e quest'anno diciamo l'obiettivo minimo stagionale era proprio quello della salvezza e ci siamo riusciti con le unghie fino a raggiungere l'obiettivo quest'anno credo di dire che è stato un campionato veramente livellato e quindi bastavano due tre risultati negativi e ti potevi trovare subito nei bassi fondi della classifica quindi abbiamo fatto un'ottima stagione e allora leggiamo le tutte le vincitrici dei nove gironi di serie D che si ritroveranno in questa pool Scudetto Emanuele Vassalli girone A Alcione che è una società di Milano quindi adesso Milano ha tre società professionistiche in tre società professionistiche poi Caldiero che è una società veneta Clodienze che è una società la società di Chioggia Carpi Pianese Campobasso Cavese Altamura e Trapani in alcuni gironi non c'è stata storia per esempio nel lì dove il Trapani davvero è stato sempre primo c'è stata qualche sorpresa secondo te? Sicuramente penso il Caldiero Terme che ha battuto ieri al fotofinish il Piacenza e poi la Pianese è stata una sorpresa oppure eravate partiti della tua Pianese eravate partiti per vincere quali erano gli obiettivi? Guarda gli obiettivi erano sicuramente quelli di fare un buonissimo campionato e classificarsi tra le prime 4-5 quindi ottenere i playoff è vero anche che dopo il primo mese di lavoro dopo i primi due mesi di lavoro ci siamo resi conto che avevamo davanti a noi una squadra forte e che se avessimo continuato in questo modo molto probabilmente ci saremmo tolti delle belle soddisfazioni e così è stato fino alle ultime 4-5 giornate quando poi abbiamo capito che dovevamo spingere sull'acceleratore per fare in modo che questo piccolo sogno si potesse avverare un po' scritta la promozione tra virgolette scritta quella della Cavese dopo la sconfitta l'anno scorso nello spareggio contro il Brindisi secondo te sempre? io penso che in quel caso anche loro abbiano avuto il loro momento di difficoltà visto il cambio di allenatore che hanno effettuato clamoroso perché era primo in classifica l'allenatore precedente più 7 o più 8 se non sbaglio questo ci fa capire che nonostante tutto vedi anche queste grandi squadre hanno i loro momenti anche se poi la Cavese ha vinto alla grande contro squadre comunque come la Nocerina un'altra grande squadra fatta di grandi nomi che ha avuto difficoltà durante l'anno e l'Altamura di Giacomarro? l'Altamura anche di Giacomarro ha fatto un grande campionato tra l'altro ha combattuto con il Martina di un ex campo basso Angelo Mancini però noi abbiamo fatto un amichevole ad agosto contro l'Altamura quindi ci siamo anche in quel caso resi conto che era una squadra di spessore troppo elevato per competere con le altre magari di media classifica abbiamo fatto questo excursus sulle nove vincitrici della Serie D da domani i play-off di Lega Pro primo turno ricordo la novità da quest'anno il VAR dal primo turno e a Pescara sono contenti perché l'anno scorso Pescara-Foggia fu annullato un gol al Pescara per un fuorigioco millimetrico forse col VAR non sarebbe stato annullato chissà da quest'anno ci sarà allora proseguiamo con i contributi Alessia in piena zona play-out il Campomarino ieri ha vinto 3 a 2 ai danni del Ripalemosani a segnare per i Bassomolisani sono stati Cacchione Montechiari e Falco mentre per i Gialloblu Montuori e Dell'Aventura ricordiamo che ora appunto il Campomarino avrà l'ultima chance per salvarsi contro la Cliternina ascoltiamo Piero Scuderi attaccante del Ripalemosani difensore che ha fatto l'ultima partita con il Ripalemosani ha chiuso con il calcio giocato esatto Gianni ha fatto la sua ultima partita e Daniele Falco è il giocatore del Campomarino ascoltiamoli Sì abbiamo fatto un grosso campionato soprattutto una parte centrale in cui abbiamo disputato diverse partite portando anche a casa il bottino pieno abbiamo fatto un filotto che ci ha permesso un po' di andare alla sosta natalizia con un po' di più tranquillità rispetto all'inizio campionato e poi la seconda parte di campionato è stata un po' altalenante e lui ha visto l'ultimo mese perché comunque siamo stati indeboliti da vari infortuni da varie situazioni squalifiche abbiamo perso un po' la testa perché giustamente cercavamo a tutti i costi la vittoria immaginavamo gioco però alla fine il gol non l'abbiamo mai trovato perché fondamentalmente negli ultimi 4 partiti lo score è stato un po' negativo per quello che abbiamo espresso in campo però sono contento che abbiamo raggiunto l'obiettivo stagionale che la salvezza che è cosa che mancava quasi da 20 anni arriva anche tu sei stato infortunato però insomma hai fatto un po' una corsa contro il tempo ci tenevi oggi a chiudere insomma questo discorso insomma molto probabilmente insomma per te è stata l'ultima partita sì questa è stata tutta la mia ultima partita è stata veramente emozionante perché poi volevo dare il mio contributo in maniera totale a 360 gradi però ovviamente l'infortunio non me l'ha permesso quindi mi ha permesso mi ha permesso semplicemente di esprimermi per 5-10 minuti di come un accordo col mister quindi poi tra l'altro c'entra avanti quindi solamente per dire basta ma per divertirmi come sempre sì è l'ultima mia partita sono contento così e mi dispiace semplicemente non l'avevo portato a casa i tre punti però i ragazzi mi hanno aiutato in tutto e per tutto quest'anno sì sì è una vittoria comunque importante perché da morale venivamo comunque da due risultati utili consecutivi sicuramente il desiderio era quello di giocare il play out in casa però non c'è nessun problema comunque una partita secca sono 90 minuti da giocare apertamente sarà una guerra e quindi siamo pronti assolutamente poi insomma la partita secca è una gara a sé no? insomma conta poco la classifica conta poco conterà sicuramente chi ci arriva meglio da un punto di vista mentale sì sì appunto per questo oggi era importante assolutamente vincere perché questa settimana sarà proprio importante per prepararla proprio dal punto di vista mentale poi 90 minuti può succedere di tutto però sicuramente ci faremo trovare pronti e adesso quindi vediamo anche l'ultimo contributo del campionato di eccellenza ne abbiamo parlato abbondantemente nel corso della trasmissione cioè Termoli 2016 Olimpia Agnonese voglio anche aggiungere che abbiamo avuto la notizia del campo di Montenero Baranello quindi la diamo anche al portiere del Baranello Sant'Aniello che sarà Agnone gradito come campo così al volo sì un campo molto gradito per me per te deve essere gradito anche al portiere ragazzi il portiere si diceva una volta è mezza squadra non so se si dice ancora qui abbiamo il portiere del Baranello prego spareggio retrocessione appunto tra l'Agnonese ed il Termoli che si ritroveranno appunto per la terza volta all'ultima risale proprio a ieri nel pari di uno ad uno ascoltiamo Massimo Ricci allenatore del Termoli 2016 mentre per l'Agnonese Mauro Marinelli ascoltiamoli Paolo Salmano è una partita tra virgolette in controllo poi succedono purtroppo questi infortuni che ti pregiudicano il corso della partita alla fine per comandata eravamo in sofferenza con una persona in meno in difficoltà loro avevano fatto anche gol va bene così ora ci sarà questo replay questo spareggio e vediamo un pochino dall'inizio grossa concentrazione l'impicciatore è stato infallibile è riuscito a trovare quella imbucata vincente però la squadra ha retto bene è ripartita benissimo ha lasciato anche un po' giocare anche per farli sfogare però alla fine non ci poteva scappare anche il bis cosa che non è arrivata perché c'è stata l'espulsione ma sì come dicevo prima diciamo che la partita era abbastanza in controllo palleggiavamo bene riuscivamo a trovare delle ampiezze riuscivamo a lavorare in una certa maniera poi ovviamente con l'uomo in meno poi prendi il gol subito quindi cominciano a sorgere dei dubbi delle paure che è normale fisiologico le partite vanno in questa maniera delle volte è andata bene ultimamente questa volta no possiamo fare meglio perché una squadra che si allena quattro volte a settimana dal punto di vista trerico obbligatoriamente deve uscire fuori nei minuti finali della partita però non siamo stati bravi secondo me dopo l'espulsione del portiere loro a saper far girare la palla con più calma molte volte abbiamo buttato questa palla avanti noi non abbiamo grossi colpitori di testa nella fase avanzata della nostra squadra cioè come attaccanti diciamo così abbiamo affrontato una squadra che ci ha messo il cuore se noi mettessimo un po' di cuore come lo mettono loro penso che non ci saremmo trovati in queste condizioni una squadra che viaggia con il pullman tutte le domeniche che pranza al ristorante in casa e fuori casa ma abbiamo mantenuto fede a quella che è la società Olimpia Agnone però non siamo soddisfatti non siamo soddisfatti del verdetto del campo che gara sarà invece domenica prossima uno spareggio morte tua vita mia gli spareggi sono sempre una partita da tripla chiaramente forse un piccolissimo vantaggio l'abbiamo perché Recchia secondo me è uno dei migliori portieri che c'è in questo questo torneo lui è squalificato però anche il secondo ha fatto una grossa parata su Ebdal Zim che poteva darsi direttamente lo spareggio non sarebbe stato giusto perché non abbiamo creato molto dobbiamo essere più tranquilli dobbiamo essere più sereni sapendo che come organico siamo forti ma come gruppo non riusciamo ad emergere Prima della pubblicità Luigi Santaniello sarà un vantaggio per l'Agnone la squalifica del portiere del Fermoni 2016 Recchia si dovrebbe giocare a Trivento questa partita Assolutamente Paolo come ha detto il dirigente dell'Agnone uno dei migliori portieri della categoria io lo conosco ha giocato se non sbaglio in Serie D con il Trapani è un portiere molto bravo che ha dato anche molti punti al termo di quest'anno Alessia facciamo una piccola pausa pubblicitaria facciamo qualche breve minuto di break ma mi raccomando restate con noi per la parte conclusiva fra poco di nuovo in studio ultima parte di Molise a calci vedremo la Moviola è un top e flop particolare perché per il flop rubrica flop Alessia è andata a scovare un gol clamorosamente fallito a porta vuota in Serie B e quindi lo vedremo a breve sto leggendo i playoff di Lega Pro che scatteranno domani leggo Pescara-Pontedera vedo Picerno-Crotone Cerignola-Giuliano Taranto-Latina insomma da 27 squadre si arriverà a una che andrà in Serie B a metà giugno c'è una tua previsione adesso che sei in Lega Pro anche tu Emanuele Vassalli io penso che adesso per le squadre di Lega Pro inizia un nuovo campionato è come se iniziasse perché praticamente adesso si iniziano di nuovo tutti gli scontri io ho seguito con piacere la Lega Pro soprattutto il Girone C negli ultimi anni ho seguito molto ma che cosa comunica questo Girone C nel senso la vittoria dicono con un budget risicato della Juve Stabia che cosa puoi insegnare? se non sbaglio la Juve Stabia credo avesse il tredicesimo budget del Girone quindi questo a conferma di quanto abbiamo detto prima Gianni che spesso non sono i grandi nomi a garantirti la promozione ma forse ci sono altri ingredienti invece il Campobasso che subito si dimostra ambizioso nelle dichiarazioni che commenti ti porta a fare dichiarazioni rivolte evidentemente al campionato di Serie C come le accogli? come potrebbe non essere dopo che io ho visto dopo la partita che abbiamo concluso ieri a prende social ho visto la curva del Campobasso io penso che questa gente questa piazza meriti i grandi proclami e quantomeno grande programmazione Luigi Santaniello sulla curva non parliamo di calcio per 30 secondi la curva con lo stemma la croce di San Giorgio le bandierine rosso-blu la curva è strepitosa merita un'altra categoria quest'anno sempre risposto presente dalla prima all'ultima partita quindi insomma la media spettatori è stata più elevata in questa Serie D a vincere se ripensi al campionato come se fossero stati due tornei in uno sì il campionato possiamo dividerlo di prima per Golizzi e dopo per Golizzi e con per Golizzi c'è stato un cambio radicale nel passo del campo basso ma già dallo stile di gioco il mister ha portato molto entusiasmo con i tifosi che come sempre hanno risposto presente la dote di per Golizzi l'abbiamo chiesta a Progna ha detto è uno che bada al sodo secondo te la tua che sei stato a contatto per gli ultimi tre mesi a tuo avviso quale è stata? lui ha creato grandi rapporti con i giocatori si ha creato ha tenuto unito questo gruppo che appunto in campo possiamo possiamo vederlo ogni giocatore va a lottare per il compagno secondo Emanuele Vassalli io non conosco la distanza esatto da Biancastagnaio però comunque sono stato sempre in contatto con lo staff attuale del campo basso con lo staff attuale di per Golizzi e posso garantire che penso che la coesione del gruppo e la voglia di arrivare a qualcosa di importante abbia fatto abbia fatto la differenza lo stesso della pianese quindi più o meno assolutamente sì lo stesso della pianese noi ci abbiamo creduto quando abbiamo iniziato a capire che potevamo farcela quotidianamente ce lo ripetevamo nello spogliatoio fino a quando poi non si è avverato allora Alessia è giunto il momento di andare a guardare il secondo ed ultimo blocco di Moviola stavolta sulla promozione e l'eccellenza lo facciamo come sempre appunto attraverso le immagini curate dal direttore Antonio Di Lallo guardiamola insieme La Moviola in collaborazione con Carburanti e lubrificanti Paglione Carburanti agricoli e per autotrazione Lubrificanti mobile Kuwait Oli motore Oli idraulici Oli per trasmissione Cambi e differenziali Ora nella nuova sede di Contrada Iontapede Nella zona industriale Campobasso Ripalimosani Carburanti e lubrificanti Paglione Dal 1952 Ci prendiamo cura del tuo motore Da soli in pochi oppure in tanti Insieme con un tipo speciale Basta poco per far festa Con Gelindo Gelindo e i suoi gelati Un dolce brivido di felicità Gelindo La felicità ha il gusto delle cose semplici sane, genuine Un brimido dolce di felicità A Lancia e lotta ha vinto l'Isernia 9 a 2 sul Boiano Questo è il secondo gol del Boiano Calcio di rigore per un intervento di Giobbe difensore in maglia bianco celeste sull'attaccante di Nucci in maglia bianca Il fallo c'è perché se andiamo piano vediamo che il difensore dell'Isernia colpisce andiamo avanti qui vedete si incrociano i piedi con il piede sinistro di Giobbe sul piede sempre sinistro sul piede destro di Di Nucci qui potrebbero esserci gli estremi per un calcio di rigore concesso dal signor Simonelli di Isernia alla battuta va lo stesso Di Nucci e fissa in questo momento l'8 a 2 poi l'Isernia segnerà anche il nono gol 28esimo del primo tempo proteste dell'Agnone partita tra Termoli 2016 e Agnone finita 1 a 1 qui l'Agnone voleva un calcio di rigore il numero 11 in maglia granata Abdel Azzim entra in area ma se andiamo piano vediamo che il difensore del Termoli Gerardo Letto colpisce con la punta del piede il pallone andiamo avanti qui perché l'azione avviene in area eccolo qui vedete Gerardo Letto spinge il pallone che cambia proprio direzione a questo punto cade Abdel Azzim ma ha fatto bene l'arbitro il signor Iudicone di Formia a lasciar proseguire partita tra sesto campano e Fortore ha vinto il sesto campano 2 a 1 qui è solo sfortunato il sesto campano perché sull'invito di Conte eccolo qui cambio in rovesciata con il piede destro si avvita molto bene è solo sfortunato perché vedete il gesto tecnico molto bello è sfortunato perché la palla colpisce in pieno la traversa quinto minuto del secondo tempo a campo di pietra dove Ripalimosani ha perso 3 a 2 contro il campo marino questo è il secondo gol del campo marino se andiamo dietro vediamo la rimessa del portiere Dinucci con la maglia bianca che sbaglia l'intervento rimette in gioco Montechiari che ringrazia e segna in questo momento il secondo gol per il campo marino che ha condannato alla quarta sconfitta consecutiva il Ripalimosani settimo minuto del secondo tempo a Baranello ha vinto il Baranello sul Prata 4 a 3 questo è il settimo minuto come dicevamo calcio di rigore concesso alla Prata andiamo avanti con le immagini perché c'è un fallo di parmentola su Barbiero andiamo avanti qui vedete parmentola che con il piede destro colpisce il piede sinistro di Barbiero ci sono tutti gli estremi per il calcio di rigore concesso dal signor Corbo di Termoli andiamo avanti con le immagini perché tira Fantini ma Santanello portiere del Baranello compie davvero una bella parata riesce a deviare il pallone due rigori a spinete questo è il primo ecco questo è il fallo vedete sulla ribattuta del portiere del portiere c'è un fallo di Saurino andiamo avanti qui con le immagini Saurino con la maglia bianco celeste che va a colpire nettamente il piede di Evangelista questo è sicuramente calcio di rigore eccolo qui l'intervento scomposto vedete colpisce il piede destro del giocatore in maglia gialla e calcio di rigore giustamente concesso dal signor Colilla di Termoli va a tirare dagli 11 metri esattamente pace e in questo momento fissa l'1 a 2 il gol in questo momento dello spinete la partita in questo momento è 1 a 2 nel secondo tempo ancora un calcio di rigore per lo spinete anche questo crediamo che ci sia perché in aria c'è Staffieri arriva Armenti che vedete colpisce il piede eccolo qui vedete colpisce il piede di Staffieri come si gira Staffieri andiamo avanti qui con le immagini perché vedete Staffieri si gira Armenti allarga il piede sinistro poi colpisce il piede destro di Staffieri anche questo è sicuramente calcio di rigore anche questo concesso giustamente dal signor Colilla di Termoli dagli 11 metri segna di Bartolomeo siamo 2 a 2 ma nel finale la Esernia vincerà 3 a 2 due rigori anche a busso questo è il primo 35esimo del secondo tempo c'è questo fallo di De Pasquale su Di Froscia fallo che c'è perché vedete De Pasquale il giocatore con la maglia gialla che con il piede destro colpisce il piede destro di Di Froscia andiamo avanti qui vedete questo è il momento calcio di rigore giustamente concesso dal signor Ciarlariello di Termoli dagli 11 metri Ricciardi segna il gol del 2 a 3 passa qualche minuto 37esimo c'è questo cross di Minichillo Facchino respinge con il braccio sinistro braccio largo anche questo è un calcio di rigore che ci sta a tutto anche questo concesso giustamente dall'arbitro andiamo a vedere la battuta perché tira lo stesso Minichillo e il Trivento vince 4 a 2 prima categoria girone A siamo all'antistadio Acli c'è questo fallo di Paciarella su Niro andiamo avanti con le immagini fallo che c'è tutto andiamo avanti qui perché vedete il giocatore in maglia bianca del Mirabello viene tenuto giù dal giocatore in maglia rosso-blu questo è certamente calcio di rigore alla battuta va lo stesso Niro arbitro il signor Ciavarella di Termoli tira lo stesso Niro e insacca il gol che poi deciderà la partita allora qui si rincorrono le voci caro Santaniello sulla sede di le voci le indiscrezioni sulla sede di Montenero Baranello io ho detto prima Agnone però siamo in diretta quindi praticamente dovrebbe essere Vasto Girardi io ti ho chiesto anche un parere su Agnone te lo chiedo adesso su Vasto Girardi come campo qualsiasi campo sia noi va bene noi dobbiamo solamente vincere noi possiamo vincere qualsiasi campo esso sia in qualsiasi campo si giochi Montenero Baranello a proposito di campi vi dico che sta per essere posato direi finalmente il sintetico a Toro dopo veramente tanti anni e tante peripezie per ottenere il manto in sintetico ci ha informato a proposito il sindaco di Toro Roberto Quercio e quindi ci ha detto che praticamente tre settimane lavorative sono ancora necessarie per posare questo manto in sintetico poi documenteremo tutto a dovere ci fa piacere perché è una storia che abbiamo seguito da vicino questa del sintetico a Toro e allora vediamo l'ultimo contributo che è il top e flop Alessia esatto è giunto il momento di andare a guardare il primo top e flop di maggio il top in eccellenza nella partita Ripa-Limosani Campomarino invece il flop in Serie B nella partita Cremonese-Parma e ricordiamo che il Parma è salito in Serie A proprio la scorsa settimana guardiamo top e flop top e flop top e flop top e flop top dell'avventura del Ripa-Limosani che realizza un gol ininfluente ma comunque spettacolare sarà il secondo gol dei locali che tuttavia non servirà ad evitare il KO contro il Campomarino Floppa Johnson della Cremonese che nella sfida in casa del già promosso Parma manda alle stelle un tiro da due passi e a porta vuota terminerà uno ad uno ma che grande errore quello dell'attaccante ospite top e flop allora questo è il top e flop vediamo qualche gli ultimi episodi da Moviola in particolare un calcio di rigore chiesto dall'Agnone al Cannarsa di Termoli lo abbiamo selezionato prima per un fallo presunto tale di un difensore del Termoli vedete l'attaccante dell'Agnone che se ne va sul fondo poi affronta l'attaccante il difensore di casa Emanuele Vassalli secondo te qui non è stato dato nulla? io penso che alla fine il difensore riesca a toccare seppur minimamente la palla quindi concordi con la decisione arbitrale Luigi Santaniello concordo sulla decisione tocca prima la palla e poi il giocatore dell'Agnone si lascia anche abbastanza cadere l'attaccante dell'Olimpia agnonese poi andiamo a Baranello dove questo ragazzo qui presente ha parato un calcio di rigore ma noi non vogliamo farti vedere questo ma il fallo che ha portato all'assegnazione del calcio di rigore al Prata bravo Santaniello che ha parato qui c'è stato questo fallo del tuo collega sull'attaccante del Prata in Magia Gialla Santaniello si era era rigore stava calciando a botta sicura mi dispiace perché il rigore è nato anche da un passaggio c'è un passaggio sbagliato mio quindi almeno mi sono rifatto ma il rigore c'era assolutamente non è che lo dici perché l'hai parato che c'era il rigore no no c'era stava calciando si aveva tirato Magia stavo scherzando Emanuele Vassalli sono dello stesso parere calcio di rigore per il Prata e poi bella parata di Santaniello si può sbagliare un gol clamoroso anche in Serie B lo abbiamo visto non avevi parole prima l'attaccante della Cremonese Johnson ha sbagliato quel quel gol bravo dell'avventura e allora grazie a Luigi Santaniello che giocherà abbiamo detto a Vasto Girardi Montenero Baranello per questo spareggio che vale il secondo posto quindi la promozione in eccellenza o per il Montenero o per il Baranello l'altra la sconfitta andrà a giocare il playoff contro la Esernia in bocca al lupo ad entrambe grazie mille grazie Gianni grazie Alessio per l'invito e ci vediamo presto a Vasto Girardi a Vasto Girardi giusto? sì e grazie Emanuele Vassalli che a breve incontrerà il campo basso vediamo dove sia a Piancastagnaio o a a Campobasso al Molinari quindi rivedrai il campo basso speriamo speriamo a Campobasso al Molinari aspettiamo perché è tutto decretato da un sorteggio quindi questi triangolari dobbiamo dire che il campo basso giocherà domenica 12 12 maggio poi se perderà continuerà a giocare mercoledì contro una fra Carpi o Pianese complimenti a te a Prosperi grazie Umberto Di Giacomo e ci vogliamo mettere anche giustamente Leonardo Brenci che è stato un bravo ragazzo un calciatore del campo basso io vi ringrazio per i complimenti e vi ringrazio per l'invito grazie Emanuele Vassalli alla Pianese rimarrai alla Pianese ma io la rincorro da due anni questa Lega Pro Gianni quindi mi auguro mi auguro di sì ti auguri di sì e lo auguriamo ovviamente a Emanuele Vassalli che se l'è meritata sul campo grazie Alessia grazie Gianni grazie ai nostri ospiti e a voi che come ogni lunedì ci seguite da casa dunque non mi resta far altro che rinnovarvi l'appuntamento come ogni lunedì lunedì prossimo alle ore 21 e 30 sempre qui su Tele Molise con Molise a Calci grazie per averci seguito e buon proseguimento buona serata Molise a Calci in collaborazione con Design, stile e comfort nel nuovo showroom di D'Amico Arreda sulla superstrada Trignina Isernia San Salvo uscita a Civitanova del Sanni Consul Brokers Piazza della Vittoria 14A a Campobasso Broker di assicurazione Info 0874 43 86 35 Molise a Calci 4 Clladio 8 9 9 10 11 11 14 19